Sfida ad alta classifica allo spess tra Atletico Calcio Roma e Atletico Casalotti, con gli uomini di Mister Fiatti chiamati a continuare l'ottimo andamento della squadra, impreziosito dall'ultima vittoria in casa della capolista. Al fischio del signore Erbanni i padroni di casa partono bene con la conclusione da fuori area di Daga, ma il tiro è debole e centrato e Rosini para senza problemi. Poco dopo, altra occasione per il Calcio Roma con la punizione per un fallo di Virgili su Cellini. Alla battuta va Grassi che prova a mirare il 7, ma Rosini si supera e in tuffo devia in angolo. Dalla bandierina, Piperno prova a metterla in mezzo, ma l'estremo difensore ospite arpiona senza problemi la sfera. Dopo il brivido, l'Atletico Casalotti è pronto a colpire su punizione di Broccati che vede Chiarucci che va col destro al volo e palo! Si dispera il numero 7 per l'occasione svanita, ospiti che insistono su palla inattiva. Prima Broccati dalla destra costringe tanto la mazza a respingere coi pugni, poi al 38esimo sempre lui. Pesca nel mucchio Mari Antoni che si coordina col destro, ma la sfera termina ben oltre la traversa. A fine tempo, lunga gettata di Desimone per Grassi che prima controlla, poi scarica per Daga che converge e spara col destro. Ma Rosini, in tuffo, salva la propria porta, ancora una volta. Nella ripresa, gli ospiti entrano carichi e ci provano con Chiarucci e Morresi che tenta la giocata. Il rimpallo è favorevole per Lombardo, ma il suo destro è fiacco e Santo Lamazza la recupera facilmente. Mister Bianconi tira fuori l'asso con Esposito e viene premiato. Perché un minuto dopo, Chiarucci trova il corridoio proprio per il neo entrato, che va col mancino di prima intenzione e con classe beffa il portiere. La sblocca lui, Esposito, 60 secondi dimenticabili per lui, sugelati dai festeggiamenti dei propri compagni. L'atletico Casalotti è su di giri, apertura col contagire di Morresi per Lombardo. De Pierro cerca di spazzarla, ma Lombardo rondemorde e conclude col destro, troppo debole per essere fatale. Sotto di un gol, l'atletico Calcio Roma cerca il pari, prima su punizione corta di Miglionino per Coccia, che crossa il centro per De Pierro, che prova a coordinarsi di testa, ma non ci arriva e si dispera. Poco dopo, su rimessa laterale, la sfera schizza dalle parti di Grassi, che stigena in un lampo e carica la bordata. Rosini, provvidenziale, evita la rete del pari. Cara di intensità alla gara, in pieno recupero, gli ospiti in ripartenza con Lombardo, che in posizione regolare supera Coccia, ma il 17 lo trattiene vistosamente. Lombardo chiama la sanzione, il direttore di gara assegna il giallo al neo entrato Casalingo. Dopo tre di recupero, si chiude il match. L'atletico Casalotti riapre la lotta per il terzo posto, conquistando la seconda vittoria consecutiva, a discapito della squadra di Fiatti, che interrompe la striscia di cinque vittorie di fila.